La Sette, libera, informata, indipendente, ogni giorno in diretta, pronta a dar voce in studio e in piazza a un paese in continuo cambiamento. Si stupirà che non le dico qualche epitetto personale. La ringrazio intanto. Il Partito Democratico a me sembra vivo. Lei è un po' allergico, troppo allergico le critiche. Aperta al dibattito. Renzi o Berlusconi? E al confronto delle opinioni più diverse. Ma i nostri politici lo sanno qual è davvero la reggaettira? Una squadra autorevole, solida, affidabile, composta dalle migliori firme del giornalismo italiano. Perché non? La Sette, la TV libera che fa opinione.